musica ti dicono che non l'hai fatta ciao c'è queste spine hai capito perché è percorso medio capito perché è percorso medio bello eh si però mi ha fatto uno discreto eh occhio quando c'è scritto doppio queste cose sono lunghi eh questo no mi sembra un futuro carino si però mi è venuto veramente facile che non ce ne ho mai pensato ma mi sembra mi sembra ma Grazie a tutti. Bella, molto, molto bella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ah, che figo. Roba da Peter Pan. Bello. Bello. Questo si poteva provare. Oh, qua c'è un cavatappit. Eh, mi sparo il cavatappit. Vai pure lì, va se vuoi. Bello. Oh, qua c'è un cavatappit. 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 Eh? Vedo. Vedo. Il cavatappit è un cavatappit. Il saltimbanco, sì. Credo che sia l'unica media. Grazie. Un cavatappit è un cavatappit. Ma vai tranquillo. Vai col turismo. Se voglio passare ti dico dove passo. Eh? Il canto è ciò del mattine. Ah? L'acqua mettene. O? Loüsate il cavatappit. Quack. grazie va soci in strada poi in usita grazie ma c'era un bel gap c'era grazie 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 dove c'è il gap dove c'è il salto vai vai occhio sotto grazie 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 Vendemi la camera da l'aria Grazie.